A che cosa si ridurrà il mondo quando potremo salire alle altissime quote della stratosfera. Per il momento ne siamo ancora lontani, ma la mostra dell'aeronautica inaugurata a Parigi dal ministro Bidol dimostra che stiamo sulla buona strada. Verrà giorno che gli aeroplani, dagli mani transatlantici ai visti elicotteri, faceranno del loro volo il nostro pianeta come un fitto e ronzante sciame di satelliti. Miriadi di questi astri d'alluminio produrranno incessanti eclissi di sole e di luna. Alla battaglia delle Termopili i nemici dissero a Leonida «Le prece dei persiani oscurano il sole». «Combatteremo all'ombra», rispose Leonida. «Forse i nostri figli vivranno all'ombra quando gli aerei oscureranno il sole che sarà un bel sollievo nei mesi estivi».